Un'azienda artigiana media con un utile di 40.000 euro ha pagato il 9% in più di tasse l'anno scorso col decreto Salve Italia e un altro 3% quest'anno. In totale se ne va in tasse il 73% dei profitti. E quanto mai possibile tutto ciò è quanto fa rilevare il presidente provinciale della CNA di Ragusa, Giuseppe Massari, alla luce delle difficoltà quotidiane con cui le piccole e medie imprese del territorio fanno i conti. Una situazione intollerabile su cui è necessario intervenire. Per la CNA la soluzione risiede nell'evitare l'aumento dell'IVA e nel rivedere l'IMU. Ci aspettiamo, dice Massari, che tra qualche giorno, subito dopo la fine delle ferie, si parli di lavori pubblici, di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione e di tutto ciò che può servire per concretizzare quello shock che può farci uscire dalla recessione. Sperare soprattutto nella legge di stabilità con un pacchetto di misure di qualche decina di miliardi. Per Massari però anche il sistema impresa deve fare la propria parte, cercando di reagire al momento di difficoltà. Non possiamo continuare a piangerci addosso, aggiunge, dobbiamo prefissarci delle priorità e provare a concretizzarle. Penso in primis alle dimensioni delle imprese e alla necessità di fare in modo che le stesse possano diventare competitivi a livello globale. In questo senso, per Massari, il percorso delle reti di imprese potrebbe rivelarsi un valido strumento. Infine, tra le questioni che meritano attenzione, vi è quella delle imprese artigiane, soprattutto nel settore culturale, che rischiano di scomparire per mancanza di successione. A tal fine, conclude Massari, sarebbe indispensabile una legge che accompagna il passaggio fra vecchi e nuovi artigiani.